Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi amici, eccoci al Mercoledì Santo e vogliamo vivere anche questo giorno lasciandoci guidare dal Padre, dal suo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, oggi nella lettura del Vangelo si fa un passaggio dall'Evangelista Giovanni che abbiamo seguito in queste settimane all'Evangelista Matteo. Il tema però rimane lo stesso di ieri, il tema del tradimento e ci si focalizza sulla persona di Giuda. Ascoltiamo il Vangelo dalla voce di Noemi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono trenta monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose «Andate in città, da un tale e ditegli». Il maestro dice «Il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano disse «In verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà». «Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse «Rabbi, sono forse io?» Gli rispose «Tu l'hai detto». Parola del Signore. Lode a te, un Cristo. Sono forse io, Signore? Questa domanda che ognuno degli apostoli rivolge a Gesù ci fa molto pensare. Prima di tutto perché come può uno non sapere se è lui? Però è anche vero che è giusto che ognuno non dia per scontato di non essere lui. Che uno non sia troppo sicuro che sia un altro a tradire Gesù. Questa umiltà, questo mettersi in discussione è molto importante, è molto sano. Vorrei pensare a questa cosa, a Giuda. Un apostolo che ha vissuto tre anni con Gesù insieme con gli altri apostoli, che ha ascoltato gli insegnamenti di Gesù, che ha visto i miracoli di Gesù, a cui Gesù avrà rivolto tante volte la sua parola in maniera personale. Come è possibile che sia arrivato a fare questo gesto, di vendere Gesù per 30 denari? Che cosa è successo in quest'uomo? Perché potrebbe succedere anche in me. Non posso dire sono gli altri che tradiscono. Penso che una persona può anche fare tutte queste belle cose con Gesù, frequentare anche tante messe, tante situazioni di riti, di religiosità con Gesù, ascoltare tante volte il suo Vangelo. E apparentemente si presenta come un discepolo, davvero. Però può succedere contemporaneamente che questa persona, e guardate posso essere io anche, può succedere che questa persona coltiva nel cuore uno spazio per desideri propri che non c'entrano niente con Gesù. cioè coltiva un'altra vita e quindi si trova ad avere due vite, una doppia vita e una non comunica con l'altra. C'è come un muro invalicabile. Ecco, due vite che non riescono a comunicare una con l'altra. È la situazione già detta da Gesù dei due padroni. Chiaramente uno è Gesù, l'altro è Satana. Ma è una situazione molto rischiosa perché quando uno ha due padroni, prima o poi, ci sarà uno dei due che prevale, uno che viene scelto, uno a cui il cuore aderisce. Ecco, in questo caso è stato Satana che ha prevalso. Ma come si fa a rendersi conto di essere in queste situazioni, di avere una doppia vita? Pensiamo anche a un papà di famiglia che potrebbe avere la doppia vita e coltivare in uno spazio totalmente invisibile, riservato, un'altra relazione. E come si fa a riconoscere situazioni del genere? È interessante che Gesù manifesta queste cose che potrebbero essere nascoste, ma nonostante lui manifesti, non provoca niente questa sua parola di luce perché il cuore è da un'altra parte. Ci vuole tanta umiltà. È giusto mettersi in gioco, dire «Sono forse io, Signore?» Aiutami a capire. E potrebbe essere che nella nostra fragilità arriviamo a renderci conto di essere in una doppia vita quando facciamo lo sbaglio madornale, l'errore mostruoso. Allora ci rendiamo conto. Però lì è veramente un momento importantissimo. Quando ci rendessimo conto di uno sbaglio assurdo fatto da noi stessi, stiamo attenti. Perché ancora la partita è aperta. Satana cercherà di convincerci che il nostro sbaglio è troppo grande per essere perdonato. Perché possiamo andare in disperazione. In realtà questa è la menzogna estrema che lui cercherà di giocare come ha fatto con Giuda. In realtà per quanto grande sia il nostro errore, il nostro peccato, il nostro sbaglio non sarà mai grande come l'amore di Gesù. l'amore del Padre. Non facciamo piccolo, non consideriamo piccolo l'amore di Dio, più piccolo del nostro peccato. Sarebbe una grande ingiustizia, una grande falsità. il suo amore è più grande di qualsiasi peccato, anche di quello di vendere Gesù Cristo. Ecco, ma soprattutto affidiamoci alla Madonna proprio perché ci aiuti ad avere questa consapevolezza che l'amore di Gesù per me è più grande del mio peccato e fare come Pietro che una volta compreso il suo errore ecco, si è lasciato guardare da Gesù, anzi è proprio stato lo sguardo di Gesù che l'ha fatto consapevole del suo errore e l'ha anche guarito. Ecco, andiamo sotto lo sguardo compassionevole di Gesù quando ci rendiamo conto dei nostri sbagli e ammettiamo di essere fragili. Vieni Gesù, riempimi di te, ti dono il mio cuore e riempilo del tuo del tuo amore, donami tutto te e con te donami le tue virtù, amami Gesù, fa che io ti ami con il tuo amore, grazie Gesù, grazie che io sono qui, sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono, vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola, il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero, il Signore sia con voi, e con il tuo spirito, sessione della Mamma Celeste di Benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, amm. Dio Onnipotente, Eroonipotente, Benedica, gli сот disciplines di Benedice Dio Onnipotente, di Benedica, ��igo, io ti amm. Grazie.